Il 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, una ricorrenza tesa a sensibilizzare la società rispetto alle difficoltà quotidiane che vivono le persone interessate dal disturbo dello spettro autistico, le loro famiglie e i loro caregiver. Gli studi sull'autismo, spiega il garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza Vincenzo Giuliano, sono in costante evoluzione e la conoscenza sui diversi aspetti dell'autismo è cruciale per proseguire sempre più efficacemente il percorso di inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone autistiche. Per il garante è necessario lavorare a livello educativo sulla scuola e sulla società, al fine di promuovere l'accettazione di tutte le diversità, ma in particolare delle neurodivergenze. Un lavoro incommiabile in tal senso per Giuliano è stato svolto dalle diverse associazioni, che ha prodotto lo scardinamento di un retaggio culturale radicato nella nostra comunità, favorendo una vita in società certamente migliore rispetto al passato per le persone autistiche. L'auspicio per il garante è di formare continuamente la società in cui viviamo, dandole tutte le informazioni scientifiche ed operative intorno all'autismo, in quanto una società può sostenere i suoi membri soltanto se conosce, se la sua ignoranza viene dissipata dalla luce della conoscenza.